In questo tutorial vediamo come risolvere disequazioni prodotto. Partiamo da questo primo esempio. Abbiamo 4x meno 1 per 5 meno x maggiore di 0. Dovremo andare a porre il primo fattore e il secondo fattore maggiore di 0 e allora scriverò 4x meno 1 maggiore di 0 e poi 5 meno x maggiore di 0. Ricordo che qui si mette sempre maggiore di 0, indipendentemente se nel testo c'è scritto maggiore o minore. Adesso risolviamo le due disequazioni. Partiamo dalla prima. Prendiamo il meno 1, lo portiamo al secondo membro ed otteniamo 4x maggiore di 1. Dividiamo ora tutte e due membri per 4 e semplifichiamo ottenendo x maggiore di un quarto. Risolviamo ora la seconda disequazione portando il 5 al secondo membro ed abbiamo meno x maggiore di meno 5 ed ora moltiplichiamo tutte e due membri per meno 1 perché la x è negativa ed otteniamo x minore di 5. Andiamo a rappresentare graficamente la prima e la seconda soluzione e allora consideriamo la retta dei numeri reali. Per la prima abbiamo x maggiore di un quarto. Individuo un quarto e so che il primo fattore risulta essere positivo per valori più grandi di questo numero, un quarto, e allora la parte positiva sarà a destra di un quarto, mentre prima metto tutti i trattini per indicare che per valori minori di un quarto il primo fattore è negativo. Ora passiamo alla seconda disequazione, x minore di 5. Individuiamo 5 e sappiamo che questo fattore risulta essere positivo quando prendiamo valori più piccoli di 5 e allora la positività del fattore l'abbiamo per valori più piccoli di 5. Per valori maggiori il secondo fattore, ossia 5 meno x, risulterà essere negativo. Effettuiamo ora il prodotto dei segni e iniziamo da valori più piccoli di un quarto. Il primo fattore risulta essere negativo, il secondo positivo e meno per più otteniamo meno. Per valori tra un quarto e 5 il primo fattore è positivo, il secondo è positivo e allora metto un più e un più e più per più otteniamo più. Per valori a destra di 5 sappiamo che il primo fattore è positivo, il secondo risulta essere negativo e quindi più per meno otteniamo meno. Vediamo adesso qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità risulta essere maggiore di 0. Nello studio del segno il maggiore di 0 lo vediamo in questo intervallo, ossia quando x è tra un quarto e 5 e allora scriverò x tra e quindi metto minore e minore e poi ricopio questi due numeri e quindi a sinistra metto un quarto e a destra metto 5. Risolviamo questo secondo esempio. Dobbiamo porre maggiore o uguale a 0 il primo fattore e il secondo fattore e allora scriverò 3x meno 9 maggiore o uguale a 0 e un mezzo x meno 1 maggiore o uguale a 0. Osservo che tutti e due fattori si pongono maggiori di 0 anche se qui c'è scritto minore di 0. Visto che nel testo c'è anche il simbolo di uguale, sia in questa disequazione che in questa disequazione dovrò scrivere l'uguale ottenendo maggiore o uguale, maggiore o uguale. Risolvo ora la prima e la seconda disequazione. Per la prima prendo il meno 9 e lo porto a secondo membro ottenendo 3x maggiore o uguale 9. Divido adesso tutte e due membri per 3 e semplifico e 9 diviso 3 risulta essere pari a 3 ottenendo x maggiore o uguale 3. Risolviamo ora la seconda disequazione. Portiamo meno 1 al secondo membro ed otteniamo un mezzo x maggiore o uguale di 1. Ora devo togliere questo 2 al denominatore e moltiplicherò allora tutte e due membri per 2. In questo modo semplifico 2 con 2 ed otteniamo x maggiore o uguale di 2. Vado ora a rappresentare graficamente le due soluzioni. Per la prima abbiamo x maggiore o uguale 3, individuo 3, metto un pallino perché qui vi è un simbolo di uguale e la positività l'abbiamo per valori a destra di 3. E allora per valori a sinistra di 3 sappiamo che questo fattore risulta essere negativo. Facciamo la stessa cosa con il secondo fattore. Individuiamo 2, mettiamo un pallino perché qui vi è un uguale e la parte positiva l'abbiamo a destra di 2 visto che abbiamo maggiore. E per valori più piccoli di 2 sappiamo che questo fattore è minore di 0. Effettuiamo ora il prodotto dei segni. Per valori minori di 2 abbiamo meno al primo fattore e meno al secondo fattore e meno per meno otteniamo più. Tra 2 e 3 il primo fattore risulta essere negativo, il secondo fattore risulta essere positivo e meno per più otteniamo meno. Per valori a destra di 3 il primo fattore e il secondo fattore sono tutti e due positivi e più per più otteniamo più. Ora vediamo qual è la domanda. Osserviamo che per x uguale 2 e per x uguale 3 otteniamo 0 e lo mettiamo in evidenza. Infatti se sostituisco al posto della x2 qui otteniamo 2 diviso 2 che è 1 meno 1 è pari a 0 e la stessa cosa vale per 3 sostituendo qui 3 e qui 3 in questo fattore abbiamo 3 per 3 è 9 meno 9 che è 0. Vediamo ora qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa disequazione risulta essere minore uguale a 0. Il minore di 0 lo vedo tra 2 e 3, l'uguale a 0 lo abbiamo in x uguale 2 e in x uguale 3 e allora dovrò scrivere x compreso uguale 2 e 3. Risolviamo quest'altra disequazione ponendo il primo fattore e il secondo fattore maggiore di 0 e scriverò x meno 9 maggiore di 0, x più 7 maggiore di 0 ottenendo x maggiore di 9, x maggiore di meno 7. Rappresento ora le due soluzioni. Per la prima abbiamo 9, individuo 9 e la positività l'abbiamo per valori a destra di 9. Qui c'è un maggiore e allora il primo fattore è negativo per valori più piccoli di 9. Rappresentiamo ora la seconda disequazione. Individuiamo meno 7. Questo fattore risulta essere positivo per valori maggiori di meno 7, ossia la linea continua alla faccia a destra. E prima metto meno. Eseguo ora il prodotto dei segni. Per valori minori di meno 7 abbiamo meno e meno e quindi meno per meno otteniamo più. Tra meno 7 e 9 il primo fattore è negativo, il secondo è positivo e meno per più otteniamo meno. Per valori a destra di 9 il primo fattore e il secondo fattore sono tutti e due positivi e più per più otteniamo più. Vediamo ora qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità risulta essere maggiore di 0. Il maggiore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui, ossia per valori x minori di meno 7 e in questo modo ho rappresentato questo intervallo vel x maggiore di 9 e in questo modo ho rappresentato quest'altro intervallo. Risolviamo questa disequazione e dovremo porre il primo fattore x più 5 e il secondo fattore x meno 5 entrambi maggiori uguali uguali a 0 e scriverò x più 5 maggiore uguale a 0, x meno 5 maggiore uguale a 0. Metto uguale qui e qui perché nel testo vi è anche il simbolo di uguaglianza. Risolvo ora le due disequazioni ottenendo x maggiore uguale di meno 5, x maggiore uguale di 5. Rappresento graficamente le due soluzioni. Nella prima individuiamo meno 5. Metto un pallino per indicare che qui vi è un simbolo di uguale e so che la positività del primo fattore la otteniamo per valori a destra di meno 5 e quindi a destra di meno 5 tiro la linea continua e prima tiro una linea tratteggiata. Nella seconda abbiamo x maggiore di 5. Individuo 5, metto un pallino perché qui vi è un simbolo di uguale e questo fattore è positivo per valori a destra di 5, quindi qui tiro una linea continua e prima una linea tratteggiata. Devo ora effettuare il prodotto dei segni. Per valori minori di meno 5 il primo e il secondo fattore sono negativi e quindi meno per meno otteniamo più. Tra meno 5 e 5 il primo fattore risulta essere positivo, il secondo negativo e quindi più per meno otteniamo meno. A destra di 5 entrambi i fattori risultano essere positivi e quindi più per più otteniamo più. A meno 5 e a 5 questa quantità risulta essere 0. Infatti se vado a sostituire al posto di x meno 5, qui otteniamo meno 5 più 5 che è 0 e la stessa cosa accade per x uguale 5. Sostituendo qui 5 e qui 5 questo fattore si annulla, quindi complessivamente a sinistra otteniamo 0. Vedo ora qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore uguale a 0. Il minore di 0 lo vedo tra meno 5 e 5, l'uguale a 0 in meno 5 e in 5. E allora la soluzione sarà x compreso uguale meno 5, 5. Risolviamo quest'ultimo esempio e dobbiamo porre il primo fattore e il secondo fattore maggiore uguale a 0. E allora scriverò x più 7 maggiore uguale a 0 ed ho scritto il primo fattore e poi scriverò x più 7 maggiore uguale a 0 ed ho scritto il secondo fattore. Risolvo ora le due disequazioni ottenendo x maggiore uguale di meno 7, x maggiore uguale di meno 7. Rappresento graficamente le due soluzioni. Per la prima individuiamo meno meno 7. Mettiamo un pallino perché qui vi è un simbolo di uguale e sappiamo che questo fattore risulta essere positivo per valori a destra di meno 7 e allora prima risulta essere negativo. Rappresentiamo ora il secondo fattore. Dobbiamo individuare meno 7 che è già presente nel grafico e mettiamo un pallino perché qui vi è un simbolo di uguale. A destra sappiamo che questo fattore è positivo e prima è negativo. Effettuiamo ora il prodotto dei segni. Per valori minori di meno 7 il primo e il secondo fattore sono tutti e due negativi e meno per meno otteniamo più. Per valori a destra di meno 7 i due fattori sono tutti e due positivi e più per più vale più. Per x uguale meno 7 sia il primo che il secondo fattore si annullano e metto un uguale 0. Infatti sostituendo al posto di x meno 7 sia questo fattore che questo fattore, in questo caso tutte e due, si annullano. Vedo ora qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore o uguale a 0. Il maggiore di 0 lo vedo per valori minori di meno 7 e per valori maggiori di meno 7. L'uguale a 0 lo vedo per x uguale a meno 7. E allora vuol dire che per qualunque valore reale questa disequazione risulta essere sempre maggiore o uguale a 0. E allora è una disequazione sempre verificata e si scriverà r. E con questo termino il tutorial su esempi di disequazioni prodotto. Grazie a tutti.